50.000 euro per acquistare un'ambulanza è l'importo donato dalle tre aziende del polo farmaceutico aquilano, Don Pemi, Narini e Sanofi, quest'ultima azienda nel comune di Scoppito, alla ASL dell'Aquila per dotarsi di una nuova ambulanza. Un gesto di solidarietà e di vicinanza che rinsalda il legame tra il tessuto industriale che fa riferimento ai tre colossi del farmaceutico e la città colpita dal terremoto dieci anni fa e che le aziende non hanno mai voluto lasciare. Espressione sul territorio di un importante peso in termini non soltanto di fatturato ma anche di occupazione. Sono mille dipendenti totali del polo farmaceutico di cui il 90% aquilani. È un piccolissimo gesto che noi aziende del farmaco facciamo per la cittadinanza di un'area, quella dell'Aquilano e di Scoppito che ci ha accolto in tutti questi anni, che ci ha aiutati a lavorare soprattutto nel post remoto, hanno fatto degli sforzi incredibili e noi oggi volevamo ricordare proprio queste persone che sono poi i reali eroi del quotidiano, cosiddetti che sono quelli che consentono poi ai insediamenti come i nostri di riuscire a rimanere, a investire negli ultimi tre anni. Le aziende nell'Aquilano hanno investito circa un centinaio di milioni di euro solo in tre anni per dare un'idea dell'impegno reale che c'è dietro. Un'importante presenza in Abruzzo, quella delle tre aziende della salute, anche per il governatore Marco Marsilio. Occorre favorire sempre di più il gioco di squadra per creare benessere nei cittadini, dice il Presidente della Regione. Oltre a investire economicamente e dare lavoro, poi sono così impegnate sul territorio che si crea un rapporto molto virtuoso. Oggi stiamo appunto celebrando la donazione per la ASL di un assegno che consentirà di acquistare un'altra ambulanza. Io credo che le istituzioni debbano lavorare per favorire questo gioco di squadra con distretti industriali che portano innovazione, crescita e investimenti che creano posti di lavoro e sono l'unica base reale per creare lavoro e ricchezza e quindi anche benessere per i cittadini.